Ma insomma devo proprio commentarla, mi pare una di quelle figure, sarà ricordata per anni, ma guardi al di là di questo non è il momento di fare battute, io mi permetto di dare due suggerimenti a Salvini, l'ABC di questa situazione è non andare a dare fastidio a chi sta dando aiuti, non si va nelle zone di confine per farsi selfie, non è il momento di farsi selfie, di farsi video, ognuno deve fare il suo lavoro e il lavoro di un politico è quello di stare in Parlamento, di stare nei ministeri, di stare sul territorio, quindi non si va lì a fare selfie. Seconda cosa, non è che ci dimentichiamo, nessuno si dimentica di chi sono stati i sostenitori di Putin in Italia, nemmeno negli Stati Uniti. Cioè il tema della maglietta di Putin lo conosciamo, forse non vai anche per quello, sta dicendo questo, onorevole Romano. Insomma, no, nel senso che non è il momento di fare polemiche, c'è una guerra, però non è che Salvini può pensare che ci siamo dimenticati noi in Polonia, in Russia, in Ucraina, di chi erano gli amici di Putin, di quelli che dicevano, come diceva Salvini, dai mezzo Putin per due mattarella, lo diceva Salvini qualche anno fa. Cioè io se fossi in Salvini starei zitto, mi dedicherei alle cose che costano. Chiaro, chiaro. Voglio sentire in un telegramma, vi devo chiedere sia Roberto Arditti che Gianluca Paolucci.